L'amministrazione comunale di Ispica non riesce ancora una volta in una programmazione effettiva lasciando le cose a metà, ad affermarlo è il consigliere comunale Giuseppe Pluchinotta riferendosi ai lavori di demolizione del ponte di Cozzomuni che hanno preso il via stamattina. In data 24 giugno, dichiara Pluchinotta, ho ricevuto risposta scritta dal genio civile in merito a dei miei carimenti sui lavori e progetti relativi al ponte Cozzomuni dopo la sua demolizione. Agli atti dell'ufficio, si legge testualmente nella noto di riscontro Inviatami, non sussistono documenti o elementi inerenti tale progetto. Ne è conseguenza che dopo essere stato demolito nessuna ricostruzione sarà fatta, non essendoci nessun progetto in tal senso. Si ripete ancora una volta dunque, e contiene il consigliere, un modus operandi che caratterizza questa amministrazione, ovvero la mancanza di una progettazione effettiva. Lo è stato con il mercato, che da oltre un anno continua a rimanere chiuso, lo è tuttora con il nuovo marciapiede realizzato lungo la Litoranea, per il quale si attende ancora una regolamentazione stradale.